Chi sei tu? Sono stato morso da un ragno che mi ha dato dei poteri. Non avrebbe dovuto mordere me, avrebbe dovuto mordere qualcun altro. Qualcuno di qui. Io non sono di qui. E devo tornare a casa mia, ok? Ho anche io uno, zio Aaron. O meglio, lo avevo. Era un tortivo. Chiamato Bravo. Ma si è preso cura di me. Ha fatto un sacco di cose brutte, ma... Io so che poteva essere buono. Solo che non sapeva di poter scegliere, ma tu lo sai. Potresti essere buono. Essere buono. Ti prego, devi fidarti. So che non vuoi essere brawler. Non lo sono. Il sindaco, Freddy, ha esteso il coprifuoco di New York, mentre il cosiddetto cartello dei sinistri 6 lotta per il controllo della strada. Tuo padre è vivo. Come? Tuo padre ha detto che è vivo. Sì. Chi sei tu? Sono Miles Morales. Ma tu... Tu puoi chiamarmi Brawler. Se non torno a casa... Nostro padre morirà. Tuo padre. Ti prego. Devi lasciarmi andare. E perché dovrei... ... ... ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Con un po' di vecchi amici. Grazie a tutti. Grazie a tutti.